eccoci qua spero se ci sono battete un colpo così so che in effetti la live sta andando ho riavviato il computer e vediamo se adesso le cose vanno un po meglio ok avviamo The Witcher vediamo se stavolta ci dà l'onore di avviarsi ehi Fabrizio ciao non ti avevo poco fa ero entrato quando ero nel momento di massima disperazione quindi non ti ho salutato buonasera e grazie per essere qui grazie per i bittini grazie Fabrizio un po' mi incoraggiano in effetti ok vedo una schermata nera quindi credo che il gioco stia partendo vediamo se è vero ok sembra di si è avviato ce l'abbiamo fatta ok con solo i 37 minuti di ritardo siamo entrati nel gioco finalmente ma va bene così il bello della diretta come si diceva in tv un'elfe e un'elvena sage a questo Avalach, per questo era il nome era l'elvena sage con l'elvena di me il hunt e poi la scuola fu fuori sulla isla di misti ah grazie mille Paul per appunto l'invito a fare F5 grazie mille ok eccoci qua allora c'era la missione della banca ma dovevamo aspettare una settimana quindi cambiamo missione andiamo da qualche altra parte facciamo qualcosa così nel frattempo il tempo passa ok c'è rimasto un contratto da Witcher un giorno Geralt si imbattè in uno strano contratto qualcuno aveva bisogno dell'aiuto di un Witcher ma non di un Witcher qualsiasi voleva l'aiuto di Geralt di Rivia l'annuncio non riportava altri dettagli ma Geralt in cui Rosito decide di indagare sulla faccenda parla con il conte Beledal vediamo dov'è è parecchio lontano c'è da fare un bel po' di strada ma va bene così direi che prima di andare è il caso di posare l'equipaggiamento e andiamo al vigneto di Corvo Bianco ti sento un po' bassino ok Paul grazie mille per il feedback purtroppo mi sono anche spostato quindi diciamo che non sono neanche dove dovrei stare di solito perché almeno così posso dare girando la testa un occhio al pc di Vilandra e ecco magari la chat la vedo un po' più grande anche perché molti messaggi da quel che ho visto sul cellulare neanche appaiono quindi fantastico così va un po' meglio non ci posso credere è crashato il gioco The Witcher 3 è andato in crash cioè non mi era mai successo mai un crash e succede oggi che mi esplode il computer secondario no non so che dire non so cosa succederà oggi ho anche paura scusate ho staccato il microfono per lanciare una serie di terribili imprecazioni quindi non volevo che le sentiste allora vediamo un po' sì Fabrizio è la stessa espressione che io quella di Lino Banfi mi pento di aver insistito dice Vilandra forse sta live non stava da fare eh concordo abbastanza ma ormai che ci siamo vediamo che possiamo fare vediamo cosa possiamo portarci a casa nel frattempo The Witcher sembra stia partendo di nuovo vediamo se parte veramente o se è una presa per il culo vediamo che voi stai spiegando di nuovo vediamo che voi stai spiegando di nuovo vediamo che voi stai spiegando di nuovo nel frattempo mentre vediamo se funziona il tutto oppure no spammo un po' il comando di subtember se l'ho impostato correttamente eccolo qua con tutti gli sconti che ci sono sulle sub così se vi abbonate in in 500 posso comprarmi un computer nuovo e risolvere i problemi che offliggono la live in questo momento ok riselezioniamo la missione caccia grossa viaggio rapido ok andiamo al vigneto alla nostra base ben detto se seguite la live accumulate punti per delle key gratis di steam ammesso che la live funzioni però si l'idea è quella ok questa per chi non l'avesse vista è la tenuta di Geralt che gli è stata data per un contratto e c'è tra l'altro la possibilità di migliorarla andandola a espandere pagando oren sonanti che in questo momento non abbiamo quindi ci accontentiamo di andare a posare un po' di equipaggiamento se non ricordo male la baule dovrebbe essere qui forse al piano di sopra ok si vede che è parecchio tempo che non gioco non ricordo assolutamente niente ah forse è questo il baule si ok questa roba andrebbe venduta ma in questo momento non ho assolutamente voglia di perdere tempo a vendere roba quindi la scarichiamo tutta quanta nel baule e ci lanciamo subito all'avventura prima che insorgano altri bug non lo volevo dire però in effetti ci sta ok siamo abbastanza leggeri questa direi che la posiamo anche e si scende il witcher è qui esatto scusate ho fatto tardi ero solo in bulk ma tranquilla tranquilla assolutamente Rawatix finora non ti sei persa molto quindi va benissimo così allora abbiamo detto che dobbiamo andare fin qua assolutamente grazie per il sostegno Rawatix il lurk quanto di più apprezzato esista ecco intanto godiamoci i panorami di Tosan che ci fanno dimenticare i problemi tecnici della vita direi di farcela direi di farcela a piedi così appunto ci godiamo di più la l'attraversata niente anche il gps è un po' impazzito dice un po' dove un po' come quelli veri cambia idea ogni 3 secondi è un po' come che ok siamo arrivati o o o o o o o Over here Buongiorno, sento il tuo risultato a toccare. Sì, ho aspettato questo giorno. Quindi dovete mi perdere, ma dovrei farlo con quello che ho avuto. Ah, sembra che il mio guida è arrivato. Ciao! Ciao a te, White Wolf. Credo che hai visto la mia notizia? Ha, ha, buona questione. Sei qui, perché dovete vedere. Scusate, vorrei presentare a te. Conte Belladine, un grande admiratore di i vostri strati. Grazie. Non è qualcosa che ci sono sempre qui. Ma, Conte, signor, hai chiesto di andare da solo con questa scuola? C'è un ragazzo forte, non ho sicuro. Ma vostra spettazione è troppo rischata. Non ci prendono con voi. Scusate, dappi. Si esattamente, Vilmar. Non ci prendono, non ci prendono la mia notizia. Ma, credo che posso farlo con un giorno senza qualcuno per farlo. Non ci prendono la mia notizia. Ma guarda, l'amore. Ma, dovete farlo. Ora, per arrivare a Bras Tacks. Come se, se ne ha capito, scoperto da te. Ho una proposta abbastanza straordinaria. Ho una proposta di natura. Ho una amore, la natura. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ehi Crypto, buona sera! lieto di vederti qui grazie Paul per l'SO sempre velocissimo allora devo sapere chi siete ditemi di più in cui mi piace partire di natura voglio dire bisogna di una partire guardi di loro prendi loro salvare un pochino potrei sicuramente ma loro anche devono un pochino relaxazione certo ragazzi? inoltre c'è abbastanza di pochino pochino che bisogna spendere chi potrà me ah quindi questo è un pochino un pochino stifo stifo c'è anche Clarissa Vilmar per favore chi? mia dottura sempre ritorno da miei trovi con alcuni souvenir di lei si 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 non si 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 Dobbiamo discutere l'avventura, non? L'avventura Grazie a tutti. Ehmant, buonasera. Come va carissimo? Grazie mille Paul per l'SO. Ragazzi in chat se qualcuno ancora non segue Ehmant vi lascio il follow. Mi raccomando anche lui stream. Quindi seguiamoci tutti vicendevolmente e diamoci una mano perché appunto qui si cresce insieme. Allora, parliamo della mia ricompensa. Un contratto. Non potrei aggiungere più. Sì. E sono preparato per pagare un commensurato alto. Non mi preoccupiamo se parliamo di quanto alto sarà prima. Ma, oddio, tariffa alta e posso chiedere massimo 293. Ma proviamo a 285. Se dice che è disposto a spendere. Ah, accettato subito. Perfetto. Il maestro di Star Rail. Cosa sarebbe Star Rail, Paul? Accetto il lavoro. Ovviamente. Non mi sembrava. Non mi sembrava. Tornado. Cosa. 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 Parliamo della ricompensa. Ma ci mancherebbe sempre troppo poco per quello che fate per tutti noi streamer. Ma ci mancherebbe sì. Si fa sempre quello che si può. Anzi sì. Sarebbe bello poter fare molto di più. Per adesso si fa quel che si può. Più avanti vedremo. Ok, quindi è accettato. Me ne occupo io. Ok, direi per adesso lasciamo stare questa missione dei ragni. Ma controlliamo la mappa del conte Beledal per trovare i punti giusti da cui vedere gli animali. Quindi in pratica se ho ben capito, questo tizio con questa specie di coso in faccia dovrebbe scattare delle fotografie agli animali. Vediamo la mappa. Tana delle panterre. Sì. Sì. Grazie a tutti. Io ti auguro di avere una programmazione regolare e di avere 200 spectra, ma magari, anche solo la programmazione regolare già sarebbe un grande traguardo per quanto mi riguarda. Auror, buonasera! Come potevo mancare? Direi proprio di sì. Fate uno shoutout a Auror, se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando. Emant diceva lavoro al progetto mentre ti tengo in sottofondo. Grazie mille Emant, molto 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 apprezzato il look. Spero di tenerti compagnia durante il lavoro. Miss Laurina, buonasera! Siamo ora al completo con i mod. Felicissimo di vederti qui. Ma la cam ci sarà un giorno? Sì, probabilmente sì. Per adesso ancora no, ma direi che in un futuro magari prossimo sì. Magari quando cambiamo casa, anche perché organizzarci con la cam qui negli spazi angusti in cui stiamo adesso non è proprio una cosa semplice. Ma ecco, cambiando casa, cosa che dovremmo comunque fare in tempi brevi, ecco, ci si organizzerà meglio. Ok, procediamo con la missione. Nel frattempo ricordo a chi è arrivato adesso che oggi la live è stata, ecco, impreziosita da una lunga serie di problemi tecnici. Primo fra tutti, la fine prematura del computer che utilizzo per la chat, quindi sono col cellulare, quindi perdonatemi se non mi accorgo di quello che succede. Ah, l'orso eliminato. Penso che Filandra e Erwu sia una tra le persone più gentili e positive che abbia incontrato su Twitch. Ma grazie mille per le parole, pizza dolce, assolutamente. Troppo, troppo, troppo gentile, troppo buona. Grazie, grazie dal profondo del cuore. Che è successo al PC? Ora te lo racconto. E Cozy Witch, buonasera, salutino velocino dall'orchino, vi saluta anche il mio maestro. Allora un saluto a Targral e un saluto a The Cozy Witch, grazie per essere qui e per il work, veramente molto molto apprezzato. Se potete fare appunto un SEO anche a Targral. Allora, mi chiedevi, Auro, cosa è successo al PC? Allora, circa mezz'ora prima della live, in pratica, mi sono accorto che si premeva da solo il tasto più. In pratica, andava in automatico il tasto più e nulla. Poi mi sono reso conto che in realtà non era solo il tasto più, era come se tutti i tasti della tastiera si premessero contemporaneamente. E quindi ho provato di tutto, a staccare alla tastiera quella USB e a lasciare solo quella del portatile, a dargli un pugno, a spegnerlo, a riaccenderlo, qualsiasi cosa non ha funzionato, quindi niente. Ho desistito e adesso sono col cellulare. Ogni tanto mi giro di lato e guardo dal computer di V-Landre, infatti sono spostato su una seggiolina in mezzo al passaggio, ecco, non proprio... Non proprio ecco il massimo. Vediamo, libera la pantera della trappola, calma la pantera. Ok, come la calmo? Ok, come la calma? ecco vediamo un po' la chat cozy witch hello there ed io rispondo con un generale cozy witch vediamo un po' ciao cara mi rilasso un po' fai bene l'au è quello che tentiamo di fare anche noi in questo momento mila di buonasera aur si fa un bel face palme ha ragione concordo assolutamente ok nel frattempo se vedete l'elenco dei giochi gratuiti che ci sono riscattabili nei punti canale ce lo ha gentilmente presentato stream elements quindi se avete punti a sufficienza ragazzi mi raccomando non esitate riscattate quelle chiavi steam che aspettano solo voi la natura la natura la pittura la vita di un witcher deve essere più monotono con tutti i risultati è Non è mai bambino Ah ah, per un po' Non potrei farlo solo Con le stesse creature Dio in e dio in Ho una uova Sì? Che cosa ha fatto con niente? Niente, solo chiede Io ne ho un po' si offre Paul Se volete una case ditemelo Ecco infatti ragazzi approfittate dell'altruismo di Paul C'è Doom Eternal Yooka-Lay Lee Kotor, il fantastico Knights of the Old Republic Poi Oddworld, New Entesti, Moon Hunters The Hex, Space Beast, Terror Fright One Finger Death Punch, bellissimo Quindi non fatevi problemi Riscattate pure oppure sfruttate I punti di Paul Nelson Allora, uso i sensi da Witcher Per trovare le scalopendere giganti Iquittà Ehm Ehm Sentipoli Giant Un underground tunnel burrowers Make a distinct sound We can use that to track them Mi sta sembrando di inseguire un discorso Un discorso Un discorso Un discorso Un discorso Un discorso Mi sta sembrando di inseguire un gravoid, se ci fosse Barghammer in questo momento. Se si è iniziato, se si è iniziato, si è iniziato. Ok, aspettiamo il conte. Eccolo qua. Meglio voi che supportate Dart. Eh, ma guarda Paul, tu sei prima a supportarmi. Allora, distruggi il nido per far uscire le scalopendri giganti. Ok, buttiamo una bomba dentro. Ok, si è iniziato. Allora, ci si è iniziato. Grazie, è davvero magnifico. Possiamo andare a continuare. Grazie. Positivamente, grazie. Grazie. Un'altra domanda. Grazie. 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 un po' porta il conte al posto in cui vivono i pavoni beh quantomeno i pavoni non dovrebbero attaccarmi a proposito qui le tane che ho distrutto magari c'è un po' di roba da raccogliere che stavo lasciando no come non detto ah si stivali ok andiamo a cercare pavoni è stato fatto un strange girl lo vediamo mi sa di no bravissimo a dar qui l'andra grazie mille ma non ha funzionato per qualche motivo beh oggi non ormai oggi mi aspetto mi aspetto di tutto ok facciamo una bella cosa ok è partita benissimo ah Paul ecco dove non può vilandria può può Paul oggi ci sono molti problemi tecnici quindi perdonatemi perdonatemi anche se mi sfuggono dei messaggi ecco magari scrivetevi di nuovo se non li leggo perché sono col cellulare per problemi dovuti al al computer che ecco è andato in pensione anticipata porterò computer secondari ok vediamo questi pavoni ho come il sospetto che non troverò pavoni ma qualcosa di più pericoloso mi sembra troppo semplice decisamente li sento è il bello della diretta esatto ormai è un po' il leitmotiv di questa serata è un buon giorno per capire molti non li vedo ma li sento ah ecco qua più modo rosa di pavone tracce dei pavoni tra l'altro appena visibili infatti li ho perse ah ecco qua la scia non li vedo Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, usi tua magia, witcher! Ecco il primo. Sì, usi tua magia! E tre. Ecco, lo sapevo che succedeva qualcosa. Sì. 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 Oh, you're so great. Oh, you're so great. Panzerotti si è scottato con il sugo bollente. Ora devo usare gli occhiali, perché c'è un modo sbagliato di mangiare i panzerotti, Paul. Questa non la sapevo. Mi è sicuramente valsa la pena. Penso proprio di sì. Certo, non ho usato il metodo a pitofo. Sarebbe, me lo chiedo anch'io. Come te lo spiego? Gambia aperte, schiena divaricata in avanti, così non ti sporchi. Non ho parole, Paul. Sei un saggio luminare. Sarebbe, me lo chiedo. Ok, i nemici sono di livello decisamente alto. Devo fare molta attenzione. Ah, vero, che possono sparare le ragnatelle. Ok, ricarichiamo lo scudo e torniamo all'assalto. Meina oma. No si impara solo in una maniera deve accettare la via del fritto un po' ho il noto qui delle somiglianze con le vie della forza mi hai fatto venire fame sì, anche a me let's dance let's dance wow, merda vediamo se mi fa meditare penso di sì comunque questo è il lurchino che sto studiando grazie mille Strange Girl grazie mille per il lurk molto 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 apprezzato facciamo un altro SOA The Strange Girl io nel frattempo continuo ad abbattere i ragni ecco, così li voglio, uno a uno merda merda olè beccati tutti io frigo tutto anche le sedie ecco, quella sì che è una citazione veramente notevole direi di continuare un po' a esplorare la grotta anche se in teoria dovrei aver finito ma la esploriamo lo stesso magari c'è un po' di loot da raccattare da qua sono venuto sì, ok è chiuso ok apparentemente non c'è più niente è da molto che sei nel settore del vino buona questa ti va di fare affari ti va di fare affari ok, visto che si è fatta sera aspettiamo il mezzogiorno del giorno dopo e facciamo questo famoso picnic prima salviamo non c'è un po' di Ah minchia, saperlo che era così lontano altro che meditare. Mi facevo la strada. E in effetti mi sa che carico e mi faccio la strada. C'era la scuola, e poi la scuola la scuola, sull'isla delle miste. Ok, da quando ho caricato sta andando pericolosamente a scatti il gioco. Che cavolo è successo? Ormai mi aspetto di tutto. Va a 13 fps. Ah, il friggitore di sedia. Mi va un po' a scatti. Sì sì, anche a me, strange character. Mi dava soltanto 12 fps. Non capisco oggi che sta succedendo. C'è un problema dietro l'altro. Niente, ancora a 12 fps. Non capisco cosa sta succedendo oggi. Cioè, prima il computer secondario implode. Ora pure quello principale dà problemi. Posso abbassare un po' l'antialiesi. Ora non si muove più. Ho tolto del tutto. Vediamo se aiuta. Ehi, Depeche. Buonasera. Come va, carissimo? Facciamo, mi raccomando, un SO a Depeche. Esci e rientra. Eh, hai ragione. L'ho già fatto quattro volte stasera di uscire e rientrare. Ho molta paura a rifarlo, ma ascolterò il tuo consiglio. Vediamo che succede. Prima ho avuto anche grosse difficoltà anche solo a farlo partire, il gioco. Bene, bene. Sono contento. Te come va? Eh, potrebbe andare meglio, Depeche. Potrebbe andare meglio. Siamo... Siamo stati, diciamo, colpiti da una lunga lista di problematiche tecniche stasera con la live. Ci stiamo ancora combattendo, apparentemente. Infatti sono dovuto uscire dal gioco e rientrare perché ha cominciato a scattare pericolosamente. Senza alcun motivo preciso, tra l'altro. Vediamo se il suggerimento di Strange Girl darà i suoi frutti. Vediamo se riavviando il gioco si sistema il framerate. Anche perché pure togliendo l'anti-aliasing, che è una delle cose che dovrebbero pesare di più, continua ad andare maluccio, quindi... Ti capisco benissimo. Eh. Ti giuro, Depeche, stasera davvero una dietro l'altra. Prima il computer, quello che uso per la chat, ha smesso di vivere. Proprio mezz'ora prima dell'inizio della live. Non so se mi spiego. Poi problemi all'inizio della live. Si è anche staccata la live dopo un quarto d'ora, il gioco non partiva, ora il gioco va a scatti. Non l'unico, ma l'elfo. E un sage elvenico. Amalak, per questo era il nome. Era l'elvenico che si sta a scattare a hunt. Buona cena, Mary Lorian e buon lurk. Grazie mille. Poi succede sempre tutto quando non deve succedere. Esatto, Depeche. Ben detto. Questa frase si adatta perfettamente alla serata in questione. Oh, 59 fps. Benissimo. Mi sa che gli lascio anche l'anti-aliasing disattivato e fa un culo. Così va più fluido. Voglio dire, io fino a tot di anni fa giocavo anche a 320x200 in alcuni giochi, quindi chi se ne frega della grafica. E poi è bellissima lo stesso. Grazie mille, Strange Girl, per il ragguaglio. È stata un'ottima mossa. Troppo gentile. Anzi, direi che si merita un SO speciale di quelli con la clip. Che poi l'ho giocato da Switch e c'era un alone tipo nebbiolina. Non sapevo neanche che ci fosse The Witcher 3 su Switch. Addirittura, eh sì, eh sì, eh sì. Quando si deve, si deve. Eccolo qua, vediamo che clip esce fuori. Argo di un... Ico de puta. Ico de puta. Che gioco era? Purtroppo qua lo vedo in uno schermino microscopico, quindi non ho idea di che cosa sia. Raccontaci, raccontaci un po' la... La clip. Cosa stavi giocando? E a cosa... E a cosa si riferivano gli insulti ispanici? Ecco. Le bestemmie di Baldo. Baldo sarebbe... Ok, qua abbiamo un bel viaggio rapido, direi di utilizzarlo per andare qui al cimitero. Baldo è un giochino fatto da tre, se non ricordo male, ragazzi messinesi, infatti molte cose avevano nomi siciliani. Ah, ma c'è su Steam, su che piattaforma si trova? Abbastanza simile a Zelda, interessante. L'ho trovato nel Game Pass. Allora, mi segno decisamente il nome, faccio uno screenshot. E quando finisco la live vedo se c'è su Steam, su Itch o su qualche altra piattaforma di gioco. Mi ha fatto venire decisamente la curiosità, visto che sono comunque anche conterranei nostri. Ah, c'è su Steam, perfetto. Ok, siamo praticamente arrivati. 25 dindini. Quelli sono abbastanza, però oddio, magari durante i saldi si trova anche a meno. Comunque almeno lo metto in wishlist, qualora già non lo fosse. Anche perché tutti i giochi simili a Zelda o roba del genere li wishlisto proprio immediatamente di default. Appena li vedo che sbucano fuori nello store. Allora, Bacheca, vediamo un po'. Ho visto un fantasma, cerco altre persone che come me hanno visto uno spettro nei boschi di Caroberta per parlare insieme della nostra esperienza. Dagobert. Offresi ricompensa. Ho perso uno speciale ferro di cavallo di forma conica che ho pagato una fortuna a Belaven. Qui non li producono nemmeno, perciò chi me lo riporterà potrà bere a mie spese. Marcel di Besen. No, non sono un cavallo, questa battuta non fa più ridere. In realtà è un po' così. Cercasi scudiero. Cercasi ragazzo sveglio che se la cava con i cavalli per farmi da scudiero. Sono un cavaliere esperto e chi entra al mio servizio ha l'opportunità non solo di apprendere i costumi cavallereschi, ma anche le buone maniere dell'alta società. Gabriel de Pasternak. Potrebbe essere una citazione di Gabriel Knight, l'avventura grafica. È un cavaliere, Knight. Si chiama Gabriel. Così ti dice anche quando è scontato. Sì, infatti. La risposta è no, DL. Boh. Avviso della Guardia Ducale. Con riferimento al torneo dei cavalieri, si raccomanda ai viaggitori di non provocare i cavalieri erranti. Causerà duelli e verrà punito severamente. Il vice comandante della Guardia Ducale, Horace de Funè. Il Vigneto Hortense è chiuso. Il proprietario del Vigneto Hortense è rimasto gravemente ferito durante un attacco sferrato da alcune scolopendre giganti. Dato il persistere della minaccia, il Vigneto Hortense resterà chiuso fino a nuovo ordine. Ci scusiamo per il disagio. Grazie mille per Luigi. Speravo che... che comparissi nel momento del bisogno. E così fu. Ok, aspettiamo mezzogiorno e vediamo che minchia è sto picnic. Tra l'altro non ricordo assolutamente questa faccenda qui dei mutaggini che si possono modificare. Vediamo se bisognava spendere punti, mi pare. Bagno di sangue. Ah, servono tre mutaggini rosso maggiore per poterlo fare. Ok. Grazie. Grazie. ok qua c'è il conte direi di salvare prima che c'è qualche brutta sorpresa opzionale guarda la mostra perché me lo da ok witcher a caccia di pavone il lupo bianco a caccia di scolopendere a bocler Geralt è una pantera parliamo col conte ma è ma e la 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 sono i preditori fondamentali. Il prevede preferito a cuore in pagine, ma l'autore di questo lavoro è stato potuto capire un specimen preparato per attaccare. Guardatevi l'occhio aiuto sull'occhio, che, senza capire il rischio, aveva un rischio caldo sull'escrizione sull'escrizione, mentre si aspetta l'optimale momento di attaccare. Ah, Gerold, sei qui. È bello! È bello! Come, per favore! È bello! Ho una piccola donazione per te, e non mi non farò che farlo. Voi, ovviamente, è gratuito per vendere, ma io sarei orgoglioso se volessi in casa. Grazie. Allora... Come sta vostra figlia? Direi di chiedergli prima questo. Allora... 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 la mostra sta andando bene. La mostra sta andando bene. Allora... 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 Grazie a tutti. Ehi! Artemisia, grazie mille per il ride. Grazie davvero, troppo gentile. Facciamo un SO ad Artemisia. No, già ci ha pensato Paul Nelson, perfetto, grazie infinite. Grazie per il follow a Demones45, troppo gentile, benvenuto. Anzi, facci sapere DemonesseStreamy, che cosa ne facciamo l'SO anche a te. E che cosa stava portando? Artemisia. Ah, Demonesse, sì, anche lui streama Call of Duty Infinite Warfare, ok, perfetto. Aspetta che... Aspetta che ti lascio un follow. Ok. Ma grazie a te artemise per il ride. Vediamo tu cosa stavi giocando. Uh, Cyberpunk 2077. Ma l'ha iniziato oggi? Ma di nulla, Demonesse, ci mancherebbe. Ok, stavamo decidendo qui nel frattempo un'altra missione da svolgere qui a Tucson. Vanax è l'87. Come va? Eh, benvenuto allora, innanzitutto. E come va? Va bene, direi. E grazie mille per i 10 bit, troppo gentile, davvero. Grazie davvero. Vediamo se... Streamy penso proprio di sì. Se potete fare uno shout-out anche a Vanax è l'87. Grazie veramente per i bit. The Witcher, che bello. Sì, decisamente un gran gioco. Un po' lungo, ormai non lo sto portando dietro da quasi un anno, ma meglio così. L'ho appena cominciato, prima volta che lo gioco è una figata, ma ci credo, da quel poco che ho visto sembra incredibile. Poi soprattutto ora che, diciamo, hanno risolto buona parte dei problemi. E tra l'altro ora dovrebbe essere in uscita anche un DLC, credo. Quindi, quale momento migliore? No, no, streamo. Grazie comunque. Ma va bene, Vanax. Allora, a maggior ragione, benvenuto qui. Grazie ancora per i bit e vediamo di portarci avanti con una missione. Allora, c'erano quelle del Gwent. Dovevo prendere, recuperare delle carte per ottenere, diciamo, un mazzo completo di Skellig. E trovare anche l'equipaggiamento. Ma sì, direi di fare qualche partita a Gwent, in effetti. Trova gli altri giocatori di Gwent e vinci da loro carte più forti della fazione Skellig. Forza attuale del mazzo, 10 su 24. Stanno lavorando sul nuovo The Witcher. Oltre 150 persone sul progetto. Ma Pierluigi, che tu sappia, sarà proprio un The Witcher 4, quindi che continua a seguire la storia di Geralt. O un gioco che magari segue le vicende di un altro Witcher, magari, che il giocatore può creare per conto suo. Sono molto curioso di vedere un po' questo gioco. Mi ha sempre attirato, ma non ho mai giocato. Eh, allora, guardo, sai che ti dico? Invece di fare qualche partita a Gwent, che è il gioco di carte, facciamo una missione vera e propria. E... è fanculo, direi. Proviamo questa. Proviamo questa. Ispezione all'isola di Lac-Selaville. Su una bacheca di Toussaint, Geralt lesse un invito a una prova pensata per testare le proprie virtù. Chi avesse voluto affrontare la sfida avrebbe dovuto regarsi sull'isola di Lac-Selaville. Il nostro Witcher trovò l'annuncio sufficientemente intrigante da decidere che effettivamente era giunto il momento di mettersi alla prova. Tra l'altro è una missione per il livello 43, noi siamo 42, quindi... Probabilmente sarà alquanto difficile, ma vedremo. Come va qui, chiedeva Artemisia. Adesso bene, diciamo che la live è iniziata un po' così per una lunga serie di problemi tecnici. Anche un computer che è imploso, praticamente, che ha smesso di funzionare. Quello che uso per la chat. Infatti, perdonatemi se vado un po' a rilento, ma sto seguendo la chat sul cellulare, non è proprio il massimo. Vediamo un po'. Che è The Witcher? Quale giochi? Eh, questo è il 3, io però li ho giocati dal primo. Cioè, li ho giocati tutti quanti. Però in streaming sto portando soltanto il 3, perché all'epoca, quando giocai l'1 e il 2, ancora non streammavo. Vediamo Pierluigi, dopo lo stardinario successo dei più recenti episodi della saga, sono molte le aspettative su The Witcher 4. Attualmente incantere verso CD Projekt. L'azienda polacca, senza rivelare ancora dettagli sul gioco, fa sapere intanto che ci stanno lavorando ben 260 sviluppatori. Ah, quindi non si sa ancora nulla. Beh, io sarei forse più propenso a un gioco più libero della serie. Forse la storia di Geralt va bene già così com'è. Magari potrebbero fargli fare una comparsata e creare un gioco in cui si può, appunto... Creare da zero il proprio Witcher. Magari sarebbe interessante. Allora, devo ispezionare quest'isola, ma è parecchio lontana. Eccola qua. Quindi andiamo qui al cimitero e facciamo il viaggio rapido. Mi stanno inseguendo dei lupi, ma io continuo a correre. Non ho voglia di affrontarli in questo momento. Speriamo Van Axel di aver scelto una missione interessante. Sento un rumore strano qua. Apriamo a vedere la lampada magica che permette di... ...vedere i fantasmi. Non funziona il tasto, mi sa che si è resettato. ... A pulsante centrale, ok. No, apparentemente non ci sono fantasmi. Ok, in compenso qua c'è il viaggio rapido. ... Polnelso da quanto tempo che non ci si becca. E qua ormai Demoness Polnelso ne è di casa. È l'uomo degli S.O. e dei panzerotti. Allora. Direi di andare qui alla grotta dove eravamo poco fa e poi andiamo verso sud. Scusami per la risposta attrativa, ma sono in quattro moderation. Il nostro pol che si sdoppia in quattro come nel film con Michael Keaton. ... ... ... ... ... ... ragazzi scusatemi un attimo che devo scrivere una cosa a un collega streamer a un collega streamer allora ispezione l'isola dell'Est Selavie c'è qualcuno in meditazione, un eremita è fantastico, Geralt come Gesù Cristo è fantastico ho paura per Luigi è stato fatto a chi ha i 5 chivalrici virtuosi i mi chiamano molte cose, ma virtuoso non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. E procedo. I'm going to need some time. E quindi? Molto easy. The Biaf, buonasera. Buonasera a te. Facciamo un SO a The Biaf, mi raccomando. Come va? Benvenuto. Ah, Starfield, ti sta piacendo per ora? E' Scalibur, imbecille. La signora del lago. C'era nel primo The Witcher. The Lady of the Blade. I'm fat. It is I. Forget not that you are a man, right and honorable, devoted to doing good. And for these reasons you received the Blade. Now bear it. And I trust this time you shall not lose it. Allora, come stiamo? Eh, la live sta procedendo meglio. All'inizio inizia diciamo che ci sono state alcune difficoltà tecniche alquanto fastidiose. Infatti, come dico, come ho già detto centinaia di volte oggi, scusatemi se leggo la chat in ritardo o quant'altro, ma sono col cellulare, non col mio abituale computer secondario che mi ha abbandonato. Quindi abbiate, ecco, comprendetemi. Sono, i cellulari non sono proprio il mio forte. Appena ho ottenuto la migliore spada d'argento di tutto il game puoi tranquillamente vendere tutte le altre, ma grande. Questa sì che è una cosa buona per Luigi, per uno come me che ha sempre avuto grosse difficoltà a gestirsi la roba, come sai che sono un accumulatore seriale. Almeno ora non devo più scegliere. E non è stato neanche difficile, cioè il combattimento più facile di sempre. Pizza dolce ancora qui, sono molto contento. Ma grazie molto gentile, ma ci mancherebbe. Strano vedere la gente che vive sotto l'acqua. In effetti credo che l'unica che vive sotto l'acqua sia la signora del lago. È un riferimento a Excalibur, comunque. C'era già, ripeto, nel primo The Witcher che mi dava questa stessa spada. Anche lì era molto potente. Scusate, stavo cercando di coordinarmi con il mio compagno per chi cucina, chi porta giù cane e spazzatura. Eh sì, mi sembra giusto dividersi i compiti. Starfield, ancora non lo so. È molto strano e macchinoso. Eh, tipico gioco Bethesda mi viene da dire. Io preferirei cucinare, in verità. Eh sì, è vero. Anche perché tu sei bravissima, quindi... È un'ottima cosa. Sento una voce britannica, vediamo. Keiko Tsuki. Ma buon pomeriggio, ti lascio il lurchino finché posso. Buona continuazione. Ma grazie mille, Keiko. Grazie davvero di cuore e grazie per i beat. Troppo gentile. Facciamo subito un SO a Keiko. Mi raccomando, ragazzi, se ancora non la seguite, lasciate subito il follow. Vediamo anche cosa stava giocando. Vediamo. Anche la passeggiatina con il cane, ma la spazzatura non mi convince. Infatti quello è compito mio. Ci sarà un motivo. Che cane hai? Dice, chiede Demones. Conosco l'arte di arrangiarsi. Io ancora non ho un secondo monitor. Mamma mia, non so come fai. Io l'ho fatto per un po' di tempo e stavo veramente impazzendo. Senza secondo monitor da impazzire. Cioè, che poi in realtà era un portatile che si reggeva a malapena all'impiedi. Però ero riuscito a sistemarlo e quantomeno soltanto per la chat andava. Invece niente. Oggi ho deciso di abbandonarmi. Poco prima della live. Anche io sono curiosa. Io lo frego ad Elwood sapendo lui cucinare tre massimo pietanze. In realtà forse arrivo a quattro. Il cane è meticcio e incrocio Rottweiler. Vediamo un po'. Infatti il spero non la perderà è riferito al fatto che non si poteva passare dal primo al secondo game. Io ricordo che alcune armi te le faceva passare dal primo al secondo game. Però te le diventavano talmente obsolete proprio all'inizio del secondo gioco che te le rivendevi immediatamente. Erano proprio poco poco utili davvero. Venivano depotenziate tantissimo. Vediamo che intanto giocava a The Walking Dead Season 2. Io non ho visto neanche il telefilm quindi figuriamoci il gioco. Ma com'è il gioco? Allora. Lasciato follow. Benissimo. Non serviva il so ma certo che serve. Anastas03. Buon salve a te. Carissimo. Come va? Un SO anche ad Anastas03. Gioco tutto in finestra e tengo la chat di OBS di fianco. Molto randaggio ma per ora funziona. Ma ti dirò una streamer americana molto di successo che conosco che è partner addirittura. Fa anche lei così. Cioè streama da ormai quanto? Tre anni penso? Due anni e mezzo? Sempre fatto così. Sempre con un portatilino malconcio e con la chat di OBS giocando in finestra. Non so come fate. Per me siete magici. Avete qualche skill innata che io non avrò mai. Vediamo. Anche lui cucina poco ma stasera ha voglia di cucinare e mi tocca scendere tra poco. Mi dispiace Artemisia. Mi dispiace. Ok. Io sto con il tablet per vedere la chat e sto col portatile mezzo rotto. Torno in lurk. Ok. In effetti un tablet sarebbe già qualcosa di meglio rispetto al cellulare che ora è veramente microscopico e la chat si... Veramente... Mi perdo tutto. Dai almeno ti consoli con il cagnolino. Buona passeggiatina. Ma Seratul! Seratul! Grazie mille per il ride. Troppo gentile. Grazie davvero. Vediamo a cosa stavate giocando. Allora Ana stava giocando a Brawlalla. Che prima o poi dovrò giocarci pure io. Sto sempre lì a riscattare le ricompense prime quindi ho qualche skin, qualche personaggio e quant'altro ma non ci gioco mai. Invece Seratul stava giocando a Borderlands 3. Ah. Com'è? Com'è? Com'è andata la partita? Com'è andata la live? Vediamo. Non l'avrei mai detto. Ti ho visto diverse volte in live però la segui benissimo la chat. Sì sì ma ripeto anche quell'altra streamer che conosco meglio di me. E praticamente che ero con un computer ad hoc per la chat adesso non posso più dirlo ma va bene. In qualche modo rimedierò. Vediamo. E' la povertà che mi costringe a essere strong. Ecco questa è una santa cosa. In pratica si viene forgiati dalla povertà. E' giusto. Come i vecchi film di Star Wars che c'erano pochi mezzi hanno costretto Lucas a fare delle scelte che magari non avrebbe voluto fare però in effetti sono venuti meglio di qualunque altro film. Quindi sì a volte le circostanze sfavorevoli tirano fuori il meglio di sé. Vediamo un po'. Grazie mille per il follow. Dualit Eve. Buonasera. Eri nel ride di... Appunto di Seratul. Non lo so perché purtroppo ho la chat nel cellulare e non mi dice chi sono i riders. Quindi purtroppo non ne ho idea. Vediamo un po'. Io scappo che mi concentro su Elden Ring. Buona continuo di serata. Devoness. Buona serata a te. Buona partita. Divertiti. E grazie mille per essere stato qui e che la forza sia con te. Salve rider. Si torna il lurk e devo fare cose. Ciao guys. Fate i bravi e le brave. Grazie mille che hai con Core. Grazie davvero che la forza sia con te. Dualit Eve. Tu streammi per caso? Che eventualmente ti facciamo un SO e ti followiamo in massa. Vediamo. De Biaf. Ma grazie cara talvolta mi sento slow con alcune razioni ma cerco sempre di correre conoscendo la mia mancanza. Ma vedi De Biaf lo stai vedendo io quanto sono in arretrato con la chat. Per dire. Bene bene. Follia. Grazie comunque per il burr continuo. Ma ci mancherebbe Seratul. Guarda. Il minimo. Il minimo. Il minimo. White Soul. Buonasera carissimo. Come va? Molto molto lieto di vederti. Non so se avete fatto un SO a White. Ma anche lui uno streamer. Quindi mi raccomando seguitelo. Fan anche lui di Star Wars. Quindi assolutamente consigliato. Ah è la mia mod. Perfetto. Seratul ok. Perfetto. Allora benvenuta doppiamente. E grazie davvero per il follow. Stata qua sono donna. Ah ok. Scusa. Dal nickname non lo evincevo. Chiedo perdono. Ok. Devo ricordarlo. Allora. Grazie ancora. Demoness45. Per essere stata qua. E nulla. Buona serata. Non ho faccio solo la mod. Ok. Va benissimo. Vediamo che cosa stava giocando White Soul. Retro. White. Dicci un po'. Che gioco era? Come stai? Che la forza sia sempre con voi? Eh. Stiamo facendo una live un po' complicata. Abbiamo mezzi di fortuna per così dire. Perché il computer secondario ci ha abbandonato. Quindi sono col cellulare. Un saluto anche alla sua signora. Che è qui e ringrazia. Di nulla. Tra l'altro adoro The Witcher. Sei fan. Hai giocato soltanto al 3. Anche i primi due. Hai visto la serie. Raccontaci un po' della tua The Witcher experience. Quake 2 Remastered in cooperativo. Cosa che vorrei fare anch'io. Il prima possibile. Perché. L'ho anni fa. Quando. Proprio tantissimi anni fa. Ho iniziato Quake 2. Ma non l'ho mai finito. Quale momento migliore per rigiocarlo? I libri sono bellissimi. Ecco. I libri mi mancano. Non li ho neanche nominati. Perché in questo momento. Mi sto dando la lettura. Proprio pesante. Dei libri di Star Wars. Quindi. Praticamente. Non ho. Non ho tempo per dedicarmi altro. Perché stanno uscendo migliaia di libri di Star Wars. A differenza di una volta. Che ne usciva uno all'anno. Se andava bene. Letto i libri. Giocato e rigiocato al 3. Visto il telefilm. Su cui alcune remore. Anche io. Soprattutto sulla terza stagione. Ma alla fine. Mi accontento. Meglio di niente. E poi non avendo letto i libri. Probabilmente. Ho meno di cui lamentarmi. Comunque ti consiglio. Yves. Se non hai giocato i primi due The Witcher. Di giocarteli anche. Soprattutto il primo. Soprattutto se uscirà veramente il remake. Perché. È veramente bello. Soprattutto a livello di trama. Molto poco giocabile. Soprattutto i combattimenti. Sono terrificanti. Però a livello di trama. Molto 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 bello. Finito e rifinito. Per l'ennesima volta. Ci stiamo giocando anche tutte le espansioni. Sì. Ora sono comprese. Veramente un gran bel pacchetto. Tra l'altro gratis. Per chi aveva già il gioco. Veramente. Top. Davvero. Ma ho apprezzato. Enrico McGeralt. Assolutamente anch'io. Ne parlavo proprio ieri qui. Con la mia consorte. Darkvilandra. Perché ora stiamo vedendo. The Witcher Blood Origins. Mi pare si chiami così. E parlavamo appunto di Enrico Ville. Che è proprio perfetto per il ruolo. Quindi un peccato enorme. Che non ci sia più per la quarta stagione. Io purtroppo devo scappare. Con il cane e la spezzatura da buttare. Resto pure con il cellulare. Grazie Artemisia. Grazie veramente tanto per tutto. E nulla. Buona serata. E spero magari a dopo. Che la forza sia con te. Ci spero tanto. Vorrei giocarli davvero. Eh no no. Consigliatissimi. Consigliatissimi. Soprattutto il primo. Vi giocare all'inizio del canale. Il primo è assurdo nei combat. Il secondo è molto complesso. Sì decisamente molto complesso. In generale 3-2 preferisco forse il primo. Nonostante tutti i limiti che ha. State vedendo Ahsoka? A voglia. Assolutamente sì. Non facciamo spoiler. Ma la puntata di ieri. Epocale. Veramente veramente epocale. Ma comunque. Raccogliamo la spada più potente del gioco. Iron Dite. Ah e sono cadute in acqua. Ok. Direi di equipaggiare la seduta stante. Ogni colpo genera cariche che aumentano di 10 il danno inflitto dalla spada. Le cariche si consumano con il passare del tempo o quando subisci i danni. Una spada completamente carica inflisce sempre danni critici. I danni aumentano di 0 fino a un massimo di 10 a seconda del livello del personaggio. Uccidere un avversario con una spada completamente carica consuma la carica ma aumenta in maniera permanente il danno dell'arma. Molto 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 interessante. Ed eccola qua. Iron Dite. Spadone enorme tra l'altro. Direi che qua un bel salvataggio ci vuole. Grazie ancora Artemisia. Alla prossima. Io ho visto solo la prima ancora. Oh guarda. Diciamo che avrai delle belle sorprese. Sì è espertissimo in materia assolutamente. In pratica la spada livella. Eh sì ho capito bene infatti. Ma me l'avevi già accennato mi ricordo. Mi ricordo che me l'avevi accennato. La cosa mi aveva molto intrigato infatti. Anche se era tu il grande fan come noi. A voglia assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok. Direi di provare la spada. Tra l'altro sto per finire le missioni secondarie. Ecco direi di fare una caccia al tesoro. Così magari becchiamo qualche mostro. Caccia al tesoro. Equipaggiamento del gatto del gran maestro. Che direi che è quello che mi interessa. Mentre cercavo gli schemi che gli avrebbero permesso di far realizzare un equipaggiamento completo della scuola del gatto. A livello gran maestro. Geralt si imbatté in una storia che sembrava destinata a una fine tragica. Tutti iniziò con una visita pomeridiana alla tenuta di un armaiolo. Dalla casa di Bartolomé de launei. Quindi lo ne è probabilmente. Ma sono un Jedi da spada verde. E beh Seratul nessuno è perfetto. A posto. Non mi ricordo se hai giocato Jedi Survivor. Io no. Io no White. Sono per ora troppo pocabiente per prenderlo a prezzo pieno. E qui e poi ho ancora The Witcher in corso. Quindi finché non finisco questo non comprerò più nulla. Altrimenti non lo finisco mai. Però ho giocato Fallen Order ovviamente. Giocato e apprezzato e platinato con tutti gli achievement. Ci sono poche verità nella vita. Pur esperto di Star Wars è una di queste. Ben detto Vivante. E nonostante questa hai scelto una mod da spada rossa. E beh qui c'è del conflitto in temi sa Seratul. Ma più di cinema che di Star Wars specificatamente. Ma la saga di Lucas è un amore eterno. Mi sembra giusto. The Witcher si è lasciato da parte. Non vai a recuperarlo più. Eh ma infatti non l'ho giocato per due mesi. Perché ho un po' finito. Un po' diciamo... Mi sono preso una pausa dalle live. E ritornarci è stato abbastanza traumatico. Potresti giocarlo come ho fatto io con l'abbonamento di Apple. Però no io non sono molto fan degli abbonamenti wide. Perché poi mi sento costretto a giocare. E poi sono un accumulatore seriale. Come Pierluigi ti confermerà per tutte le armi in The Witcher. Quindi preferisco i giochi possederli proprio. Che me li posso rigiocare per dire anche fra vent'anni se mi viene la voglia. Già con il fatto che ormai è tutto quanto in digitale. Non ho più le copie fisiche. Già lì non mi sento molto sicuro. Però ecco l'abbonamento sarebbe proprio peggio ancora. Non fa per me. Non fanno per me. Vediamo. Giovane Padawan arriverà a cambiare colore quando raggiungerà l'illuminazione. L'illuminazione. Mi ricordo un po' il finale di Indiana Jones 3. E poi chi non può ammirare che è fan di Star Wars e non ha conflitti con Star Trek. Ecco esattamente. Ben detto. Quoto anch'io per la questione abbonamenti. Ma infatti. Ma proprio The Vier. Davvero. Non fanno davvero per me. Non fanno davvero per me. Anche perché poi io i giochi me li gioco lentissimamente. Cioè The Witcher l'ho iniziato l'anno scorso. The Witcher 3. Siamo ora a settembre. L'anno scorso dicevo. Eh chissà se lo finirò entro la fine dell'anno. Lo dicevo scherzosamente. Ecco. Finirà che non riesco a finirlo entro la fine dell'anno. Per davvero. Vediamo dov'è questo posto. Minchia. Abbastanza isolato. Non ci sono posti per il viaggio rapido. A parte il mulino a vento di Dulcinea. Del Toboso tra l'altro. Ok. Torniamo sempre alla famosa grotta di Puchot. Ammesso che si pronunci così. E facciamo il viaggio rapido da lì. Seratul. Ma che cazzo. Grazie mille. Abbonamento Prime. Grazie davvero. Grazie veramente di cuore per la sub. Veramente veramente gentile. Molto molto apprezzato. E Wolfen2985. Ride. Grazie mille. Ciao a te. Come va? Fate un SO a Wolfen. E direi di fare anche un SO Clip. Al buon Seratul. Che. Per la sua gentilezza. Uno specialissimo SO Clip. Vediamo. Stava giocando. Retro. Che cosa stavi giocando Wolfen? Ecco, vediamo che clip verrà fuori. Io non sono umano, sono sempre verde, sono superiore. Mi sa che è Harry Potter, giusto? Hogwarts Legacy può essere? Vediamo nel frattempo cosa mi sono perso nella chat. Allora. Allora. Ah, guarda. Se fosse arrivata la quarta di Star Trek Lower Decks su Prime Stasera ce la saremmo guardata in Watch Party. Purtroppo è solo su Paramount+. Quindi è iniziata la... ci sono le nuove puntate? Eh, questo è interessante. Tra l'altro proprio oggi mi era venuto in mente di postare un disegno di me in versione Lower Decks. Perché c'era un'applicazione qualche mese fa che ti consentiva di crearti il tuo personaggio. E mi ero fatto abbastanza somigliante. La volevo mettere su Instagram. A tal proposito, qua ci sono i social. Se vi può interessare lasciami un follow. E la posterò magari più tardi. Duali TV sono già illuminata, per questo ho scelto il rosso. Oh, ben detto, parole sante. Ecco, questa è la via. Ho parlato, mi viene da dire. E dopo aver detto ho parlato, non può mancare l'emoticon di Quill. Vediamo. E comunque Fallen Order è un gioco splendido, troppo corto però. Meglio che corto, meglio. Ormai io amo i giochi corti, soprattutto dopo The Witcher 3. Non chiedo altro che giochi brevi da finire in poco tempo, così da iniziarne subito degli altri. Ma non doveva andare così. A cosa si riferiva qua Darquilandra? Non lo so, ora poi le chiedo. Anzi, rispondere a lei. Vediamo, sta facendo un radi, questo l'abbiamo letto. Problema che verrà sopprito nel seguito. Cosa dici, la lunghezza del gioco, White? Vediamo. L'inizio è The One al tempo, maggio 2015, arriva a finire a febbraio 2016. Poi aggiunsero il DLC. Vediamo. Lo sto aspettando per PS4. Ah, Run and Gun Arcade, ok. Ma lo fanno? Vediamo, Hogwarts Legacy, ok. Sta vedendo la mia serpeverde. Allora, io non sono un fan di Harry Potter, se era tutto, però ho visto tutti i film. E in effetti se mai ci dovessi giocare, cosa che potrebbe anche essere, perché mi è sembrato un gran bel gioco, anch'io farei un serpeverde, ovviamente. Piton forever. Vediamo, a quanto ho letto sì, a posto, vediamo che mi manca. Grazie del follow a chi l'ha lasciato. Perfetto, grazie mille ragazzi per il follow a Wolfen. Mi raccomando, se qualcuno non la segue, provvedete. Io alla fine avevo solo tre spade. La spada d'argento che ora hai, la spada di Bon Everec, ed una che troverai in questa espansione. Ok per Luigi, mi sa che fra poco comincerò anch'io a disfarmi di tutta la merda. Anche perché quella di Bon Everec non penso che la sostituirò mai. Questa anche sembra potentissima. Ok, Run and Gun Arcade. Questo credo l'avevo già letto. Alex RM, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie mille per essere qui, come va? Ah, e grazie mille Paul per il so che ha giocato, vediamo, Alex a Starfield. Anche lui, ok. Chiedo anche a te, come ho chiesto già prima, parere per Starfield. Dicci un po'. White deve andare. Grazie White per essere passato. Davvero, che la forza sia con te. Grazie di cuore, è sempre un piacere vederti in chat. E niente, ci vediamo presto o da te o da me. Nel frattempo facciamoci questo pezzo di strada. Aspettiamo il parere di Alex relativamente a Starfield. Facciamoci questo pezzo di strada. E intanto proviamo questa bella spada cazzuta che abbiamo appena trovato. Nel mentre che il sole tramonta. Gran bel panorama. È sempre un piacere anche per me. A presto, a presto White. Di nuovo grazie mille. La cosa buona per Luigi è che vendendo tutta la roba che ho, forse dovrei finalmente raccimolare qualche soldo per poter potenziare la tenuta. Ok, andiamo al mulino a vento. Io vado a preparare la cena, grazie per la chiacchierata interessante e buona serata. Grazie Eve per essere passata. Ah, e ricordo anche a te, a chiunque nuovo, che qui sul canale, per chi ha un certo tot di punti canale, potete riscattare dei giochi gratuiti per Steam. Non so chi di voi gioca su PC. Però ecco, questi sono giochi per PC. Accumulate punti, lurcando, partecipando ai raid e compagna bella. Appena avete punti sufficienza, date nelle ricompense canale. E il gioco è vostro, così, a gratis, per così dire. Nel frattempo, già che sto spammando... Qua i comandi, mettiamo anche quello di September. Con gli sconti che ci sono in questo periodo per gli abbonamenti. Vediamo un po'. Beh, io sono rimasto molto colpito da Starfield. È chiaro, non è impeccabile. Allora, alla fine quale gioco lo è? Soprattutto ai primi giorni di uscita. Ci sono cose da migliorare, però un gran bel gioco, almeno per chi piace quel tipo di gioco. A me piace il genere, quindi... Ecco, sicuramente lo apprezzerei. Poi, questi giochi così grossi, diciamo, al day one, sono spesso e volentieri afflitti da bug. Quindi, ecco, uno deve un po' aspettarsi a cosa sta andando incontro. Magari giocandosi lì un anno dopo l'uscita, uno se li gode pure di più. Ah, bello, grazie, dice Yves. Sì, infatti, è un'idea abbastanza così che mi è venuta qualche tempo fa. Anche perché comunque io compro molti bundle, quindi capita spesso di avere giochi doppioni. Quindi invece che lasciarli lì ad ammuffire, preferisco elargirli gratuitamente ai supporters del canale. Tornato ora da lavoro un po' stanco, ma bene. Ottimo darvi l'andare che lasciate il follow ad Alex, perfetto. Direi di chiamare Brutilia. È ancora abbastanza distante. Ah, perfetto, bravissimi ragazzi, scambiatevi un segno di follow, come dice il buon Pasca. Cavalcata in una notte stellata. Uh, nemici! Ok, è giunta l'ora di provare la spada. Vediamo com'è. Tesoro sorvegliato. Buonissimo. Wow! Notevole. Veramente notevole. Orgine iscritti su carta di rosso. Se mi deludi anche questa volta, giuro che ti strappo le orecchie. Prendi il prossimo carico di germogli dal bivaglio di Tesham Mutna. Dobbiamo infettare un'altra zona di coronata. E sbrigati, i tizi del vigneto al di là del fiume hanno la chiave. V. Cosa abbiamo qui? Questa lettera non è finita più per caso. E riecco l'au. Bentornata, Laurina. Ora mi sento meglio. Ottimo. Gli amici ci servono proprio nel momento del bisogno. Ecco. Anzi, si vedono nel momento del bisogno. Così si dice. Allora. Qua c'è vino. Rubbiamo tutto. Petra unica. Questo cos'è? Attenzione al terrore bianco. Zona pericolosa di vedo d'accesso. Il conte Boris di Salvares risarcirà qualsiasi danno. Dice. Vediamo se mi è partita una missione per questa faccenda qua. Vabbè, intanto completiamo la missione che abbiamo già adesso. Andiamo alla casa di questo Bartolomè de la Unè. Vediamo. Beh, Dart considera che Starfield essendo un open world già ti dà l'idea dell'immensità del gameplay molto complesso. Nel capire una logica di game anche perché ti porta da un punto all'altro del cosmo da esplorare con una marea di missioni da fare. Tutto ruota intorno alle tue azioni e al comportamento verso i tuoi compagni di viaggio. Sì, è uno dei miei generi preferiti, gli open world. Quindi capisco perfettamente. Poi addirittura quello, a differenza di The Witch, perché magari su scala locale quello è su scala universale quindi certamente sarà ancora più complesso. Oppure la sub scaduta, mannaggia, appena posto la faccio. Ma tranquilla, Lau. Come hai ben detto, quando appena puoi, se puoi. Quindi non ti preoccupare assolutamente. Il tuo supporto al canale è sempre stato straordinario quindi non ti sentire pressata, ecco. Nel frattempo siamo quasi arrivati alla casa. Nel frattempo Lau ha riscattato bevi, che questa è un'ottima idea perché da quando ho iniziato la partita non ho bevuto un goccio d'acqua. Scusatemi un secondo che mi idrato. Eccomi qua, molto meglio. Comunque il logo dei Blues Brothers è immenso. Ah, dici l'avatar che ho qua su Twitch? Beh, quello è un po' il mio avatar da tempo in memoria. Ce l'avevo anche su MSN Messenger nei, diciamo, a metà anni 2000, quindi parecchio tempo fa. è sempre stata la mia fotoprofilo principale. Dark Blues, benvenuto. Vieto di vederti in chat. A proposito di Blues Brothers. Sì, Alex, ovviamente è il mio film preferito. Diciamo che ci ho basato buona parte della mia esistenza su quel film, quindi... Campamento abbandonato. E diamo un'occhiata. Sì, mi ha molto cambiato, sia a livello di gusti cinematografici, sia a livello di vestiagio. Ecco, non dico che mi veste in giacca e cravatta, però diciamo che... Ecco. Traggo molto ispirazione dei Blues Brothers. Un po' per tutto. Signi di un combattimento. Operano in giacca e cravatta, è chiaro. Solo in questo spazio, però... Mmm, un attacco reale. Deve essere stato... E anche il canale ha molto a che fare con i Blues Brothers. Tutte le alert e le schermate di attesa sono ispirate al film. Aha, e Darkwee Lander ha utilizzato il comando hug per abbracciare un altro utente. Ha lasciato un abbraccio a Miss Laurina. Potete, mi raccomando, potete utilizzarvi. Beh, ha fatto epoca. Vogliamo parlare dei pantaloni sopra la caviglia con calzino? Con calzino rigorosamente bianco, assolutamente. Purtroppo ormai non li porto più bianchi, ma anni fa facevo anche quello. Jeans neri con calzino bianco. Tra l'altro, un dettaglio notevole di cui mi sono reso conto soltanto negli anni, dopo aver visto il film migliaia di volte, è che soltanto in Hellwood si vedono i calzini, perché Jack porta gli stivali, come viene detto quando gli vengono dati dall'ufficiale correzionale interpretato da Frank Oz. Quindi Hellwood ha le scarpe basse e si vedono i calzini. In compenso non si vedono i polsini della camicia, quindi la parte bianca ai polsi non ce l'ha, perché lui tiene sotto la giacca le maniche della camicia arrotolate, e questo si vede quando si toglie la giacca all'interno del suo appartamento, se così lo vogliamo definire, il suo tetto, per così dire. Invece Jack si vedono i polsini, ma non, ripeto, i calzini, perché ha gli stivali. Quindi sono, diciamo, alternate. La parte bianca nel look, Jack ce l'ha sopra e Hellwood ce l'ha sotto. Piccolo dettaglio. È bello come un film possa influire così tanto sulla personalità di qualcuno e sul suo stile. I media possono diventare pezzi di cuore. Ma assolutamente sì, ma anche perché l'ho visto la prima volta che potevo avere quattro anni, era l'unico film che avevo in VHS, quindi lo rivedevo anche una volta al giorno, lo so tutto a memoria. Diciamo che la musica che ho iniziato ad ascoltare era proprio la loro. Per molti anni ho ascoltato solo la musicassetta dei Blues Brothers, appunto lo scollo di Paul Walkman. E diciamo che tutto quello che ho ascoltato successivamente diciamo che partiva sempre da lì. Poi ora ascolto musica quasi di tutti i tipi, perlomeno dagli anni 40 agli anni 80. Non vado dopo gli 80 in effetti. Però ecco che tutto è veramente partito da lì, assolutamente. Quindi gli devo molto. Infatti come vedete... Come vedete pure il mio Geralt ha gli occhiali da solo. Come vedete. Grazie a tutti. Just today I learned two traders had chosen this route despite the size. I came as quick as I could to warn them. Too late, fellas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as weapons. Chi pagherà le famiglie delle vittime? Chi pagherà? Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast. Naturalmente I cannot refine the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer I paid the leather tuller with 800 crocs. This unfortunate merchant family to be duly indemnified as well. Sostieni che sia l'ultimo basilisco al mondo? Questa è la tua versione? Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, I see, before the beach forests were fell. You mean to suggest a direct correlation between the beechwood forest density and basilisk populations? Indirectly, I prefer to contend. Beechwood forests are the cheap habitat of roe deer who see them. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew staves, basilisks made humans their staple food. Enter the witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had two, but Jokast's mate passed on the last. Jokast? Should she not have a name? My father dumped her in honor of my dear departed mother. Jokast was brooding there. Two weeks. That she cast from her nest alas, when the male perished. Jokast, Jokast, come Jokastanu, la famosa Jedi custode degli archivi. Ieri ho finito la serie di One Piece, mi è piaciuta molto. Non l'ho vista, perché non sono mai stato in realtà un fan dell'anime, non l'ho mai visto, quindi... Non... Diciamo che per ora ho una lunga lista di serie tv da guardare. Molti arretrati, ecco. E anche molti film arretrati, quindi per adesso non so. Però sono contento di sia piaciuta molto. Non ho sentito molti pareri. C'è Crypto, qua della community, che è un grande fan di One Piece, quindi... Volevo in effetti chiedere a lui se l'aveva vista e se gli era... e se gli era piaciuta. Vediamo, chi sei? Sputale e Rospo. Chi sei sei? E come hai sviluppato di un'interesse in l'anime? La guerra? Mi piaccia di essere attraversi. Per quanto riguarda l'anime, questa sub-specie è il nostro simbolo dynastico. Le Dysalfarese hanno signato per centrii con il sango regolato. Come una legenda di famiglia, una femenina di una specie ha riscuito un ancestro, un bambino di un bambino di un bambino. Sai dove posso trovare il basilisco? Come una legenda di un bambino di un bambino di un bambino. Basilischi argentati. Ma questa missione del basilisco, per esempio, quale sarebbe? Cioè, vorrei... Vorrei attivarla. Ah, eccola qua. La fauna di Boclèr, livello 46. Merda. Beh sì, direi che forse non è il caso di continuarla per adesso questa missione. Invece andiamo in quella dell'equipaggiamento del gatto da gran maestro. Mi togliete una curiosità? Dimmi pure Alex. Anzi, dici pure. Oh, chi c'è? Eso per Ione. Buonasera. Fate un SO al buon Eso. Mi raccomando ragazzi, lasciategli un follow. Ha iniziato da poco a streamare a Eso. E appunto è sulla strada dell'affiliazione. Quindi mi raccomando. Stava giocando tra l'altro a Wolfenstein The New Order. Un gioco a di poco eccezionale che io adoro. Quindi mi raccomando. Merita davvero il follow. Voglio riconoscere tutti dal vivo perché avete il Taksimi di Dart. Beh, Dart Willand è la mia consorta, è mia moglie. Quindi sì, ci conosciamo abbastanza bene. Sono tutti gli streamer come se non ci fosse. Seguo tutti gli streamer come se non ci fosse un domani. Yeah, così si fa pizza. Ottimo. E questo lo spirito. Lo spirito non è in residence. Siamo molto intimi, ben detto. Perché io sono multipolare. Sono buono ogni tre giorni. Eh sì, più o meno sì. Anche ogni quattro forse, Eso. Non ti sopravvalutare. Ok. Nuovo indicatore, persone in pericolo. Sai, chiusa a chiave. Come entriamo, come entriamo, come entriamo. Ma Eso sì, mi ha conosciuto dal vivo l'anno scorso. Esattamente il 24 settembre fa un anno. No, sì, esatto. Ah, vero, è passato già un anno, porca puttana. Il tempo passa molto velocemente. Ecco, qua c'è un ponteggio. Il posto perfetto per entrare. Uh, banditi. Peccato che non posso usare la spada nuova. Visto che trattasi di una spada d'argento che va bene per i mostri. C'è un balestriere. Dov'è? Qua. No, un arcedo. Wow, sto per fare una brutta fine. Andiamo col quen. Cerchiamo di combattere un po' più tatticamente. Oh, ben fatta. C'è un po' più tattico. Red, Red Seiya. Grazie mille per il ride. Un attimo che fin... Ecco qua, ci siamo. Vediamo un po'. Ride con sei spettatori. Ma grazie mille. Grazie mille veramente, Red. Vediamo cosa stavi giocando. Lego Pirates of the Caribbean. E videogame. Mi manca quello. Ho giocato molti giochi Lego. Quelli di Star Wars. Quelli di Indiana Jones. Pirati dei Carabili non l'ho giocato. Com'è? Bello? Dov'è che sono più o meno tutti belli i giochi dell'ego? Vediamo. Avete fatto l'SO? Sì, mi raccomando ragazzi. Lasciate un follow al buon Red Seiya. Anche lui infatti stream. Mi raccomando. Ci tengo parecchio. Come dice... Come ha detto poco fa... Dark Willandra. Bravi, bravi. Scambiatevi un segno di follow. Citazione. È bello così. Bravi ragazzi. Esatto. Ma quando si sposò tua cugina, al minimo, non ci credo per un giocatore di scacchi che non ricordi. Ma veramente non te lo ricordi, ESO? Porca puttana. Dai. Non ti ricordi neanche come ero vestito. Mi vero. Eh sì. Ma un ricevimento. Esatto. Ovvio, qui si scorda. La crema di argilla. No, questa cosa della crema non la ricordo. Salve Paul. Vediamo, eh. Ciao, Riders. Pizza. Eh... Scusa, Elvis stasera è precario con l'uso del cellulare. Sì, Red. Mi devi perdonare. Il computer secondario è deceduto. Quindi siamo qua col cellulare. Come se fossimo nell'età della pietra. Ma va bene. Cala VG. Grazie mille per il follow. Thank you for the follow. Non so se sei nel... Ah, buonasera a tutti. Sì, sei... Parli l'italico idioma. Perfetto. Non so se eri nel ride di Red. Ma grazie davvero per il follow. Benvenuto o benvenuta. Se streammi facci sapere che eventualmente ti facciamo l'SO e ti followiamo pure. Spero domani che ritorna la linea. La linea? Che è successo? Mi sono perso qualcosa? Ah sì, streamma Cala VG. Perfetto. Curse of the Death Gods. Che non conosco. Che gioco è? Comunque stiamo bene Red. A parte i problemi tecnici a bizzeffe stasera. Che ora sembrano risolti. Ora sta andando tutto bene. Ma la live è iniziata in maniera un po' burascosa. Jack Ghost Rider. Buonasera carissimo. Ciao Dart, come va? Passo per un saluto e per lasciarti un lurchino. Lurchino che è estremamente apprezzato, Jack. Grazie davvero. Fate anche un... No, non lo fate perché già ci ha pensato Paul. Cosa stava giocando? Nome Sky. Gioco che voglio comprare da un sacco di tempo. Quando sarà in offerta prima o poi a un prezzo accettabile lo comprerò. Un altro gioco lunghissimo in cui mi andrò a infilare e ci giocherò per un anno come sta succedendo come The Witcher 3. Me le vado a cercare tutte io, in effetti. Team Rocket, come! Hello there, my friend! How are you? Thank you for being here. Paul, fai un SO anche a Team Rocket, mi raccomando. E dalle 9 di oggi che sono senza internet, ma tutta la zona è così. Ah, brutta cosa, brutta cosa. Qui per fortuna internet ce l'ho, ci mancava solo quello. In compenso, come dicevo prima, il portatile che usavo per la chat, niente, è andato. È andato. Ok, Team Rocket was playing the Texas Chainsaw Massacre. Oh, the multiplayer game, the horror multiplayer game. Did you have some wins, my friend? And guys, let's follow my friend Team Rocket Cam. Team Rocket Cam is streaming English, so if anyone here speak English or want to learn some English, let's follow my friend Team Rocket Cam. Nel frattempo, che cosa ci fai qui? Ok. 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 Schemi da Witcher, ne vorrei un po'. Grazie Jack, grazie mille per il look, grazie davvero, molto molto apprezzato, che la forza sia con te. Vediamo la merce. Ma non ha tipo un cazzo in realtà. Grazie. So long. Ispezione alla tenuta. Ah, sono un pochino, diciamo, nascosti, quindi dobbiamo cercarli. Ok, salviamo. E faccio esattamente due minuti di pausa. E torno subito, ragazzi. Metto la schermata di attesa, sperando che non crashi tutto, perché ormai avevo il terrore stasera. Ecco qua, a fra pochissimo.